Si riaprirà giovedì prossimo, 23 febbraio, la partita sul piano lupo, l'abbattimento programmato dei lupi. Lo scorso 2 febbraio la conferenza Stato-Regioni ne ha infatti deciso il rinvio, così come chiesto dai presidenti di alcune regioni italiane e delle associazioni animaliste. Il rinvio dell'abbattimento dei lupi era stato chiesto per studiare possibili alternative. Favorevole al provvedimento, come ci ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi, la regione toscana che ne ha illustrato le ragioni. Noi siamo per portare avanti il piano del lupo che è stato illustrato nei suoi 22 punti dal ministro Galletti. Come Toscana abbiamo un problema vero, un problema che riguarda tanti allevatori che con fatica riescono a mantenere le proprie attività su territori difficili, come quelli collinari e montani della Toscana e che nel corso degli ultimi anni hanno subito e stanno subendo gravi danni, voglio dire, predazioni e greggi importanti che provocano chiaramente dei riflessi economici negativi per le aziende. Tante aziende hanno dovuto chiudere e noi come Toscana abbiamo fatto una serie di quelle azioni che sono previste nell'ambito del piano lupo, abbiamo fatto le azioni di monitoraggio, abbiamo fatto tutta una serie di operazioni che riguardano, diciamo così, interventi di protezione e quindi interventi di prevenzione. Io credo che c'è la necessità, qualora ci siano i presupposti, anche di intervenire con dei prelievi mirati, ma che devono tendere a salvaguardare il lupo in purezza. Purtroppo dei 108 gruppi che sono censiti a livello regionale, oltre mille esemplari, diciamo con una percentuale piuttosto alta, stimata intorno al 40%, sono ibridi e quindi sono addirittura più aggressivi, sono addirittura più predisposti ad avvicinarsi anche ai centri abitati e producono danni importanti. Noi su questo l'abbiamo detto, lo ripetiamo, stiamo con il mondo allevatoriale.